da brividi da brividi quello che ho visto oggi abbiamo battuto i campioni del mondo sotto 2 7 a 0 che non la stavamo strusciando in battuta non andava in ricezione non andava il muro non andava in attacco non andava loro difendevano come dei samurai a presidiare l'impero nipponico 3 match point sul 24 a 21 e poi gianelli che ha fatto mamma mia gianelli che ha fatto che ha fatto quella battuta e ci ha capovolto tutto noi non abbiamo giocato benissimo abbiamo abbiamo messo il cuore ecco il cuore il cuore oltre l'ostacolo frasi che si vanno fatte ma abbiamo veramente fatto un miracolo perché molto spesso gli attacchi erano lenti la palla era bassa non si riuscì il muro non ci fermavamo sempre sugli stessi errori sbagliavamo la strategia è una cosa che ho apprezzato dalle natura ex allenatore di calcio e la compostezza la tranquillità la semplicità di poche frasi di pochi momenti per i quali è riuscito per fede george a trovare le parole giuste per entrare nella mente dei suoi dei suoi ragazzi e questo influisce particolarmente veramente fa completamente la differenza e ora aspettiamo una tra francia e germania ma abbiamo fatto l'impresa sotto 2 a 0 con i campioni contro i campioni del mondo dove in una partita dove veramente sembrava scritta alla fine l'abbiamo portata a casa e nei momenti decisivi loro hanno avuto paura due servizi sbagliati nel quinto set sui match point hanno incominciato a sbagliare quando serviva il quid il cinismo la concretezza del campione noi ci abbiamo messo il cuore siamo riusciti a vincere loro si sono persi e ora si può sognare